A Venezia la mobilitazione è ripartita. L'avviso esplorativo dell'Agenzia del Demanio per acquirenti o privati concessionari per le isole di Poveglia e di Sant'Andrea ha rimesso in piedi quell'ampio movimento di cittadini che nel 2014 era riuscito a raccogliere quasi mezzo milione di euro per mantenere Poveglia un'isola pubblica per tutti e l'associazione Poveglia per tutti. Noi abbiamo presentato alla manifestazione di interesse un progetto di un parco urbano lagunare che sarebbe il primo del genere in laguna un parco pubblico utilizzando i fondi che abbiamo a disposizione, 240 mila euro, che sono stati messi a disposizione dei soci per cui lo offriremo alla città. Oggi dalla Giudecca all'orizzonte appare fosco. A volte nella nebbia le isole della Laguna Sud lasciano solo indovinare il proprio profilo ma non possono nascondere il loro destino. Le Grazie dove una volta c'erano malattie infettive ospedali e adesso l'hanno comprata, venduta e privata anche quella. Là c'è l'isola di San Clemente dove c'era l'ex manicomio femminile e adesso c'è tipo San Clemente Palace, un altro albergo, Sacca Sessola e là abbiamo il Marriott, l'isola delle Rose, non si chiama più Sacca Sessola, l'isola delle Rose. In mezzo, là tra le due c'è Santo Spirito a sinistra che era tipo una polveriera militare e anche quella l'hanno venduta però sono ancora fermi, devono fare un resi e devono essere ancora fermi. Oltre che per uno spopolamento mai conosciuto neppure in tempo di peste, gli ultimi decenni di storia del comune di Venezia saranno ricordati per la privatizzazione sempre più consistente del suo territorio, venduto a pezzo a pezzo al turismo ma in quell'arcipelago della Laguna Sud c'è ancora un'isola libera, Poveglia. Abbiamo raccolto l'interesse, ma non solo l'interesse, il sostegno e il coinvolgimento di una quarantina di associazioni locali che non solo dicono sì, vogliamo anche noi che Poveglia rimanga pubblica ma siamo disposti a metterci in gioco per la gestione del parco urbano lagunare a Poveglia.